C'era una volta un bambino che per svegliarsi faceva sempre tante storie ma un bel mattino per colazione la mamma gli fa trovare qualcosa di ghiotto un ricco saccottino con dentro un cuore di confettura domattina a colazione sveglia l'appetito del tuo bambino con il saccottino del mulino bianco Barilla